lo leggete anche dal nostro titolo il titolo di instant focus come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo sappiamo che questo sta accadendo il modo in cui stiamo cambiando forse siamo già cambiati beh insomma non è solamente un tema di fortissima attualità e anche il titolo del libro del nuovo libro del professor Vittorio Emanuele Parsi vulnerabili come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo con un'ulteriore frase che recita così la speranza oltre il rancore secondo me dentro questo titolo c'è un po' tutto e allora salutiamo perché è in collegamento con noi professor Vittorio Emanuele Parsi geopolitologo ed editorialista buon pomeriggio professore grazie per essere qui con noi grazie a voi buon pomeriggio allora io partirei proprio dalla prima parola che ha usato come titolo del libro vulnerabili mai come oggi come in questi come quest'ultimo anno ci siamo scoperti vulnerabili insomma la pandemia ha accelerato come spesso si dice determinate fenomeni che erano già in corso e forse insomma abbiamo capito forse più a livello europeo che a livello diciamo che rispetto magari a Stati Uniti Regno Unito Cina però insomma non voglio anticipare troppo i temi per cui io parto proprio da vulnerabili nel senso che il titolo poteva anche stare stare bene anche senza la parola vulnerabili e invece c'è anzi è la prima parola professore sì è la prima parola perché anche questa volta è la parola da cui è partita la mia riflessione nel senso che guardandomi intorno mi sono detto nell'arco di quest'anno e lo devo confermare purtroppo che il paradosso è che noi siamo appunto come si dice spesso la specie più infestante del pianeta più minacciosa per l'ambiente naturale e contemporaneamente però siamo abbiamo costruito intorno a noi un ambiente artificiale di interdipendenze fatto con la prospettiva di potenziare le nostre capacità e in realtà che è stato fatto non tenendo conto che l'umanità gli esseri umani sono l'elemento più fragile appunto più vulnerabile di tutto il sistema e quindi un sistema come lei sa meglio di me è resistente al punto dell'elemento meno resistente che siamo noi e quindi questo un pochino quello che la pandemia ci ha buttato in faccia e che forse ci offre opportunità di cambiare come a volte capita con i grandi shock e dunque eccoci come la pandemia ecco come la pandemia sta cambiando il mondo e anche ovviamente la politica io salterei per un momento questo passaggio che poi è quella che contiene forse il succo insomma del discorso andando poi alla speranza oltre al rancore cioè io metterei davanti insomma comunque l'idea che a fronte di tante difficoltà a fronte di come ad esempio insomma i vaccini che finalmente si parla di vaccini ma ecco che arrivano col rallentatore prima ho fatto una battuta forse infelice ma secondo me efficace per fare un esempio nel regno unito avanti così vaccineranno anche gli alberi noi invece ci manca poco che siamo ancora sul balcone a smentolare le bandiere andrà tutto bene però ecco la speranza oltre al rancore mi pare di capire che insomma anche lei professore che comunque ha sempre un occhio molto realista e quindi tendenzialmente non propriamente ottimistico spesso quantomeno questo accade spesso insomma vede una una luce in fondo al tunnel anche in virtù di una un'espressione che appunto usa sul titolo cioè rancore quindi di una di una cosa mi permetto di definirla così che come è da sempre insomma insito nei nostri nei nostri cuori insomma e quindi sia a livello individuale sia evidentemente anche a livello di rapporti col prossimo e questo può valere anche nei rapporti tra paesi sì beh diciamo che tutti noi che siamo cresciuti con vilcoyote e non con peppa pig quando pensiamo alla luce in fondo al tunnel pensiamo subito al treno contro cui si schianterà il nostro amico vilcoyote però anche fantozzi professore se mi permetti anche fantozzi allora se mi se mi permette la battuta sei ero da grandicello quando c'era fantozzi ok ok ci sta ci sta ma il punto è che vilcoyote è un ottimista ed è esattamente quello che a noi serve perché qualcuno che capisce che non è l'esito della lotta per così dire che la giustifica ma è la lotta che si giustifica in se stessa e allora mi spiego io sono sempre molto sembro sempre molto pessimista nelle analisi perché cerco di mettere in evidenza i punti critici gli snodi appunto complicati le cose che non possiamo non raccontarci dopodiché finita quella parte inizia la parte propositiva e non vedo in me non c'è in questo una contraddizione nel senso che è quello che si fa nella vita come dice una famosa frase la vita è quello che capita mentre stiamo facendo piani per la vita ecco loro penso che questa è la natura umana perché la speranza oltre al rancore perché pensando alla fase 1 nella fase 2 nella fase 1 in fondo era tutto sospeso era sospesa la nostra vita era sospesa la politica poi è arrivata proprio la politica e ci ha ridato speranza perché questo va riconosciuto next generation you è stato un elemento costruito politicamente per portarci oltre per disegnare un futuro se l'ha fatto intravedere dopo di che è tornata anche la politica nella lotta per per il potere come normale che sia e purtroppo in italia come voi conoscete meglio di me con questa un po diciamo così eccesso di personalismo narcisistico questo ha provocato un sentimento paradossalmente di iniziare grande fiducia è finita è fatta poi dopo il rancore perché mano a mano che vedevamo che i vaccini non arrivavano e via discorrendo le persone si arrabbiano perché lo dicevo già l'anno scorso non si può pretendere di stare tutta la vita su un pianerotolo e che ci stiano gli altri allora c'è questo duplice sentimento e io cerco di mettere in evidenza in questo libro che insomma è frutto di tanti mesi di lavoro del frutto di un anno di esperienza che abbiamo condiviso tutti noi nostro malgrado proprio questo centrando sulla politica come elemento fondamentale che contiene la capacità di immaginare un futuro e quindi non solo di prevederlo perché la politica non può limitarsi a prevedere deve immaginare deve portare verso è un tempo presente che è fatto di competizione politica per il controllo diciamo così del processo è normale fisiologico perché se io governo processo più facilmente andrò verso il futuro che desidero e questa sintonia che va continuamente regolata un po come quando si va in barca che non è che uno prende le manovre e le inchioda sullo scalo dicendo vabbè allora questa è quella giusta no devi continuamente regolare avendo una cautela chiaramente e questo lo vediamo nel proprio nei rapporti tra paesi nei rapporti tra politica d'economia nei rapporti tra attori sociali e la cautela è quella che per per arrivare a un punto di equilibrio una navigazione che non sbandi ogni tanto bisogna dare dei bei colpi di barra il moderatismo al timone non serve niente se sei sulla rotta giusta puoi fare attenzione ma altrimenti devi continuamente non compensare una forza con l'altra ma in qualche modo usare una forza per esaltare l'altra è un po come io parlo di individuo sociale proprio in questi termini da un lato la nostra individualità e l'apporto che noi diamo alla società in cui viviamo dall'altra parte la società in cui viviamo ci fa esseri individuali e non semplicemente naufraghi alla robinson crusoe su un'isola per cui e questo è una cosa semplice per molti aspetti che c'è sempre stata eppure ogni volta ci ricadiamo pensando di essere di fronte a qualcosa di incredibilmente complesso no è una cosa drammatica spesso drammatica perché mal governata ma non è più complesso di tante altre fasi che abbiamo attraversato eh beh d'altronde insomma è anche un po un tentativo se si vede che si va che controvento non si va avanti in qualche modo bisogna cambiare rotta e provare ad andare di bolina o insomma in altre in altre situazioni a me è venuto in mente prima quando ha detto non è importante l'esito della lotta a volte ma è importante la lotta stessa andando avanti a citazioni mi viene in mente l'attimo fuggente in cui il ragazzo finalmente si dichiara alla ragazza che le piace gli dicono vabbè come è andata e lui dice ma niente non mi ha detto niente ma come non ti ha detto niente non mi ha detto niente però intanto l'ho fatto che insomma è un po quello un po il discorso molto semplifica insomma semplificando che stiamo facendo con il professor Vittorio Emanuele Parsi beh insomma la politica che in qualche modo anzi con tutta se stessa ha dovuto convivere con con la pandemia mentre erano in corso comunque dinamiche già importanti ad esempio la vittoria di Joe Biden che per carità è avvenuta nel corso della pandemia ma insomma arrivava si arrivava da quattro anni di Donald Trump la Cina è sempre più vicina scusate il gioco di parole agli Stati Uniti a livello di economia ma non è che lo è ci è arrivata solamente nell'ultimo nell'ultimo anno e poi insomma le contraddizioni all'interno dell'Europa ci sono ci sono da sempre insomma il Regno Unito si è staccato dopo aver votato nel 2016 e di fatto è arrivata più o meno contemporaneamente alla pandemia quindi insomma si sono andate a coincidere diverse dinamiche alla pandemia che sicuramente hanno generato situazioni nuove interessanti o quantomeno le genereranno e leggo insomma i nuovi orizzonti europei dal libro alla sfida cinese all'egemonia americana la rinascita possibile delle democrazie occidentali ecco si guarda al futuro insomma anche con l'ambizione di aiutarci a trovare tutti insieme gli strumenti per cambiarlo a conclusione del dell'appunto il passaggio che c'è nel retro copertina dunque guardando al futuro insomma professore considerata il cambio di marcia degli Stati Uniti la Cina sempre più vicina agli Stati Uniti e l'Europa che continua a convivere con le sue con i suoi contrasti interni ed è un argomento che più o meno si è iniziato a diventare molto attuale dalla crisi del debito se non prima che futuro sarà insomma come come vede queste dinamiche tra tra grandi paesi come quelli che appunto appena elencato e citato beh intanto un futuro che come sempre noi proprio noi noi singoli siamo in grado di influenzare molto di più di quanto non pensiamo normalmente su questo questo lo sottolineo sempre perché perché non si può essere rinunciatari perché essere essere rinunciatari spesso è una come potrei dirvi una è la più grande delle scuse non è colpa nostra non potevo fare niente ma non è quasi mai così allora intanto una cosa mi preme dire noi quando dico che la pandemia non è questa cosa così complicata mi spiego bene spiego meglio voglio dire che rispetto alle sfide ambientali per intenderci i cambiamenti che ci sono richiesti per provare a vincere le sfide ambientali sono enormemente più complicati di quello che dobbiamo fare per riuscire a fermare la pandemia si tratta di fare una puntura voglio dire non c'è paragone con tutto il resto e stiamo impazzendo perché non riusciamo a fare le punture non perché non abbiamo gli strumenti detto questo a me sembra che il mondo si trovi e appunto non da oggi della sottolinea con molta precisione cioè si trova in una situazione in cui abbiamo due grandi sfide in realtà una è la sfida della gestione dell'impatto dell'innovazione tecnologica abbiamo avuto due rivoluzioni tecnologiche una negli anni 70 che è iniziata negli anni 70 con il personal computer poi ha manifestato se effetti negli anni 90 e oggi abbiamo la l'intelligenza artificiale e beh è una cosa che come capite da soli e meglio di me ha un impatto paragonabile a macchine a vapore e telaio meccanico nel settecento ci sono voluti 150 anni per capire come gestire politicamente le conseguenze della rivoluzione industriale ecco allora vorrei dire stiamo gestendo dobbiamo porci il problema di gestire la rivoluzione dell'informazione dobbiamo iniziare a farlo però perché altrimenti da sola non si gestirà e questa è la prima sfida che abbiamo e riguarda come le capisce molto bene il rapporto cina stati uniti russia unione europea perché il modo in cui la gestisci dipende anche parecchio dai principi che a cui ti ispiri l'aspetto normativo le tue istituzioni politiche dall'altra parte c'è una sfida che anche questa viene da 50 anni ormai progressivamente si costruite in questo mezzo secolo ed è il fatto che in questo mondo globalizzato soprattutto dal punto di vista finanziario noi siamo i nostri sistemi democratici sono estremamente vulnerabili all'attacco che può provenire alla minaccia che può provenire da attori economici che vengono da altri mondi che vengono dalla cina e dalla russia da paesi del golfo con buona pace del senatore di scandici ovvero da paesi che hanno un tipo di capitalismo che è strettamente legato al potere politico in cui il potere politico lo controlla per così dire e questo significa che siamo permeabili siamo vulnerabili in questo e questi rappresentano veri e propri cavalli di troia parliamoci chiaro ma dall'altra parte siamo anche difficoltà perché dobbiamo ristabilire un equilibrio interno rispetto alla concentrazione oligarchica sia di potere sia soprattutto di ricchezza che sta trasformando in questi decenni i nostri sistemi occidentali ed ecco allora che per poter guardare a un futuro bisogna mettere insieme questi due componenti ed è quello che in tutto sommato sta provando a fare l'amministrazione biden perché da un lato mette in evidenza come la cina e la russia hanno una deficit normativo e l'america sta facendo il classico lavoro che ha sempre fatto quando lo fa bene di mettere in evidenza che la sua leadership è il male minore rispetto alle leadership di altri che siano hitler stalin putin oxy tanto per essere principi per essere chiari e dall'altra parte però biden ha lanciato il suo programma di ricoveri da 1900 miliardi di dollari dicendo questo è il piano più più progressista dai tempi della great society la grande riforma di johnson che fu quella che negli anni 60 mise a tema la questione del dei diritti dei neri come sappiamo non la risolse non è ancora stata risolta ma è stata iniziata a essere posta e affrontata e comunque è evidente che nonostante tutto la condizione dei neri in america oggi migliore di quella che fosse negli anni 60 ecco allora secondo me dov'è la questione vera noi oggi stiamo dobbiamo lavorare per pensare guardando avanti se ragioniamo politicamente questo va fatto sempre per pensare dove vogliamo andare che futuro vogliamo e di conseguenza poi lottare schierarci dividerci non c'è problema su questo perché in democrazia ci si divide e poi si trova un punto di sintesi capendo che il conflitto politico è il modo in cui il conflitto sociale che è nelle cose viene depotenziato perché viene rappresentato viene istituzionalizzato e gli si offrono delle risposte che se non c'è l'accettazione del conflitto se non c'è divisione anche politica questo voglio essere molto chiaro quindi confronto aperto delle opinioni rischia di trasformare la politica in semplice gestione del consenso che sembrerà una cosa fantastica ma nel lungo periodo ormai lungo periodo ci sono contro il naso porta i sistemi a saltare per aria prima diceva che insomma poi ci si divide perché la democrazia è anche questo ci si confronta e ci si divide mi pare di vedere ci pare di vedere che rispetto insomma stati uniti e cina per citare due paesi di cui abbiamo già parlato questa cosa succede un po più frequentemente all'interno dell'europa evidentemente siamo ancora ben lontani da essere gli stati uniti d'europa e forse questo era questa era barra è l'occasione per magari non dimostrare di esserlo ma cercare di avvicinarsi il più possibile le premesse non sono delle migliori però oppure sì le premesse sono di difficoltà non c'è dubbio abbiamo visto no solo per per riuscire poi a concretizzarlo questo next generation you come sono immerse le classiche rivalità i classi i classici discorsi di interessi nazionali intesi in maniera molto stretta ma questo però appunto è realismo bisogna prendere d'atto della situazione così com'è però c'è un punto che nelle situazioni di crisi gli equilibri preesistenti diciamo anche gli equilibri di national in cui sei molto lontano da un equilibrio ottimale ma sei in una zona di conforto apparente per lo meno da qui difficile schiodarsi le crisi mettono in discussione tante zone di conforto e quindi in qualche modo consentono il movimento un po come il jenga si ricorda l'attore del jenga che toglie un pezzo alla volta se come no certo la è logico perché ormai chi gioca più a genga e bar visto che un anno che non andiamo a un bar ma il noi abbiamo questa possibilità la presa viene un po meno e allora sta emergendo proprio in questi mesi che la vera riforma strutturale che su cui dovremmo ragionare e non quelle su cui continuiamo ad attardarci di ancien regime per così dire che riguarda l'europa è il modo di fare un avanzamento dal punto di vista della delle questioni economico finanziarie è il modo di riuscire finalmente adottarsi di una politica economica perché la banca centrale non può continuare a fare i giochi dei giochi di prestigio a un certo punto non sono sufficienti e a me sembra che c'è un po un paradosso no almeno io lo vedo poi su questo spero che chi legge il libro si faccia come al solito la sua opinione paradosso è che draghi sul lato interno per molti aspetti rappresenta una garanzia di continuità degli assetti del capitalismo italiano così come sono e per molti aspetti li per quello lo dico a sito di un euro a verbis chiaramente ma in termini invece di prospettiva europea draghi ha delle carte da giocare ed è una carta da giocare lo stanno capendo i francesi che sono quelli più come al solito lo devo dire con molta franchezza anche se gli italiani non amano i francesi perché sono i cugini venuti bene ma il come posso dirle i francesi in maniera molto frizzante macron che un banchiere d'affari come 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 draghi come background è diverso e sono mesi ormai che va dicendo dobbiamo riformare pesantemente dobbiamo tornare a regolare il mercato in maniera tale che le sue oscillazioni non siano devastanti per gli ordini sociali ma ma al contrario che le società siano in grado di chiedere ai mercati di adattarsi al loro benessere e dall'altra parte c'è una sponda chiaramente in europa su questo e in europa è chiaro che la germania resta il paese più importante ma non c'è la merkel e ci vorrà tempo prima che i tedeschi esprimano una leadership che sia all'altezza dell'ultima merca dal punto di vista europeo perché la merca dei primi dieci anni è stato un disastro per l'europa parliamoci chiaro quindi a me sembra che ci sia un'opportunità e ci siamo degli movimenti all'interno dei rapporti tra paesi europei che vanno in una direzione ci saranno sempre i cosiddetti frugali ovvero i reali egoisti che che sono dei paesi piccoli lo dico con la massima stima per le popolazioni che ha un grande affetto e ammirazioni per le popolazioni anche dei paesi più piccoli del mondo ma sono i paesucoli c'è lei capisce che l'olanda il belgio la finlandia l'austria possono sopravvivere come no a qualunque cataclisma anche se arriva il meteorite quelli vanno avanti ma sono i grandi paesi la francia la spagna la germania l'italia che non possono sopravvivere dentro una struttura europea la qualunque e quindi è nessuno le nostre spalle che pesa la responsabilità di avere idee sufficientemente innovative e convincenti per portarci dietro gli altri perché se aspettiamo gli altri non avremo mai in movimento allora mi sembra che queste cose sono dinamiche vede da dove deriva il mio ottimismo se noi guardiamo la foto la foto spesso è fissa se sempre fissa ma se noi guardiamo il film è il film è diverso ci sono delle dinamiche in questo momento che aprono degli spiragli allora appunto è tu non sai quante palle giocabili avrai durante una partita ma sai che non devi sprecare le poche palle giocabili che hai poi se saranno 100 meglio ma forse saranno tre ecco allora adesso ci sono delle palle giocabili cerchiamo di giocarle e per giocarle bene come sempre bisogna partire avendo già in mente dove vuoi andare non potrà raccogliere la palla da terra e poi pensare cosa farai e contemporaneamente devi essere capace di modificare l'azione che mi viene in mente in base allo schieramento degli avversari ora detto così sembra complicatissimo è quello che normalmente facciamo durante una bella partita allora io santo beh insomma poi a me piace sempre professore quando conclude il suo ragionamento perché spesso la metta giù come se fosse una partita voi magari da casa pensate che stessi che stia parlando di calcio ma tendenzialmente vittorio manuele parsi le le sue le sue metafore le fa col rugby corretto sì le mie ossa le sue ossa le le ne sanno qualcosa prima citava per chiudere scusate prima citava olanda belgio insomma beh nessuno esempio il passato ci racconta ad esempio che il belgio è andato avanti per più di due anni senza governo l'islanda è fallita ma insomma ha fatto spallucce e ha detto ragazzi io il debito non ve lo non ve lo non ve lo restituisco andiamo avanti così e cerchiamo un po di cambiare le cose e sostanzialmente è sopravvissuta anche l'islanda l'ultimo passaggio anche se siamo un po in ritardo è il seguente mi ha colpito quando ha parlato di angela merkel di come la prima parte di cancelleria non l'abbia cancelleria chiedo scusa la prima parte di angela merkel come cancelliere non l'ha convinta e allora le chiedo siccome tempo fa si parlava del debito della crisi del debito e si parlava di un'europa in una tempesta dove però non si sapeva chi fosse il primo chi fosse il secondo non si sa chi è l'ufficiale di coperta insomma e da lì il ragionamento su un punto e cioè servirebbe un assetto serviva un assetto straordinario da organizzare in un momento ordinario insomma per l'europa che doveva gestire quella crisi quella cosa sostanzialmente non è accaduta sono passati più o meno dieci anni quell'assetto da assumere in tempi straordinari nel corso di questi dieci anni è stato poi raggiunto secondo lei o siamo ancora in una tempesta in cui non si sa chi sia il primo chi il chi è il secondo chi è l'ufficiale di coperta e così via sintetico per favore prof prof dobbiamo pensare che sarà ancora più pericoloso perché noi navigheremo per i prossimi anni con un debito pubblico enorme tutti gli stati europei e avere e che come navigare con un carico in coperta male assicurato non ce lo possiamo permettere per cui bisogna rapidissimamente trovare un assetto la mia proposta è ragioniamo sulla garanzia eterna del pagamento del servizio del debito ma iniziamo a ragionare sul fatto che il debito contratto per far fronte alla pandemia sarà un debito che sarà irredimibile sostanzialmente è l'unico modo per tornerlo dall'obiettivo della speculazione e spostarlo nell'obiettivo degli investitori istituzionali che sono diciamo quelli che ci servono per poter gestire una mole così spropositata di debito l'alternativa è inflazione a manetta lo sappiamo tutti vulnerabili come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo la speranza oltre il rancore il nuovo libro di Vittorio Emanuele Parsi professore dell'Università Cattolica di Milano geopolitologo ed editorialista grazie per essendo qui con noi buon lavoro e buona Pasqua professore grazie a voi e auguro a tutti e a tutti grazie a tutti